Il periodo è molto lungo, c'è bisogno di giurare, di fiatare, comunque è importante farsi trovare pronti quando veniamo chiamati in causa. Possiamo dire che questo calcio d'angolo, il tiro di Simone, il portiere che non trattiene la palla, è stata una prima conclusione di Pagliarulo, il portiere ancora una volta non trattiene, perché io mi sono buttato e sono uscito a stare gol. Non era facile segnare, però è andata bene. Ormai la salvezza è quasi dentro, manca veramente pochissimo se dobbiamo dirlo, però adesso noi affronteremo ogni partita sempre con l'intenzione di vincere e poi quello che viene fuori ci prendiamo, perché alla fine non abbiamo più in mente la perda. A chi dedichi il gol? Lo voglio dedicare alla mia famiglia, quindi a mia moglie e a mia figlia. Il venerdì giochiamo e quindi ci sono anche più squalificati, però come abbiamo sempre fatto, chi scenderà al posto di chi ha giocato oggi saprà dare il suo contributo.